e dopo due anni ritorna il diario di bordo vai pasquale dici qualcosa sono le 16 e 11 siamo partiti da un'oretta e mezza comunque fermammo niente spera che la lotta era giocoso e fermammo siamo poveri al prossimo video saremo ricchi ci vediamo dopo ciao diario di bordo numero due si parte siamo a grotta ferrata abbiamo spicciato di fare tutto ci mancano solo i sordi le sta prendendo pasquale ciao 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 Oh no! buongiorno e benvenuti a Campo Felice 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 buongiorno diario di bordo buongiorno alle 9.30 ci siamo avviati da circa 10-15 minuti stiamo tornando a casa vi salutiamo dalle montagne senza neve c'era poca neve però ci siamo divertiti lo stesso ci abbiamo divertiti ci abbiamo giusto ci abbiamo quindi è niente grazie a Bruzzo grazie a Bruno vi salutiamo la nostra vacanza si chiude qui alla prossima iscrivetevi al nostro canale grazie per il mi piace o il like grazie per il like per i shunners se avete qualcosa da dire scrivetelo qua sotto chiamate il numero in sopraimpressione per avere i gadget sono sopra giusto sopra sopra è vero sottoimpressione ciao da Giorgio Mastrotta e i materassi non finimmo ancora io non ci faccio il viaggio e sta lì con la 266 ma voglia ci salutiamo dalla stazione Termini ciao ciao